chiudete gli occhi e pensate alla parola startup cosa vi viene in mente magari un ufficio colorato pieno di nerd super schillati che lavorano giorno e notte a un'idea un prototipo con la speranza di poterlo vedere sul mercato e magari un giorno di essere acquisiti da un colosso e diventare milionari ora però pensate a una startup che invece ha come missione quella di creare e lanciare altre startup sì sì avete capito bene con l'ospite di oggi parleremo della metodologia lean di come raccogliere rapidamente feedback dagli utenti con un mvp dell'importanza di fare dei camp creativi con il team di lavoro e di un sacco di altre cose che possono esservi utili se avete da sempre quell'idea che volete sviluppare ma non avete mai capito da dove cominciare io sono federico favotte e io sono edoardo scognomiglio e siamo pronti ad hackerare la creatività di alessandro nasi di di jungle jungle la d è muta la d è muta perfetto questa puntata io volevo chiamarla welcome to the jungle ma edo grande idea ma edo chiaramente che diciamo lui è della scuola del post sicuramente poi alla fine questa puntata uscirà che ne so la creatività virgola spiegata perché lui non mi fa mai fare giochi di parole questa cosa mi rende molto triste alla fine di questa puntata credo che mi candiderò a jungle con la d muta addirittura sì perché se ho capito bene ma adesso lo scopriremo voi lavorate molto con le idee e se hai ascoltato questo podcast sai benissimo che io sono stanco un po vecchio e vorrei lavorare solo con le idee e farle sviluppare agli altri questo è il mio obiettivo ma adesso non ci dire niente che tanto ci arriviamo va bene allora la vostra è una startup che crea startup ci spieghi un po come funziona allora nell'idea originaria c'era il costruire un gruppo di persone un team misto per avere in casa tutte le esperienze e tutte le skills che servono per fare impresa quindi abbiamo service designer che devono costruire il servizio essere a contatto con gli utenti cercare di capire quali sono i loro bisogni validarli designer poi tecnici programmatori quindi programmatori poi legal e finance la parte noiosa poi business developers data analysis ma quindi hai questo vostro spazio ai lay team ognuno con i propri superpoteri pronti lì per dire ok proviamo a lanciare una startup o più startup contemporaneamente immagino quindi tutte le competenze in casa per boom boom lanciare startup testarle tra le startup che abbiamo visto e ci aveva interessato molto forse anche perché una di quelle più in avanti con gli sviluppi mammat ok sì allora forse così è molto più chiaro anche per chi ci ascolta facciamo proprio le fasi cioè partiamo dall'idea che cos'è mammat mammat è un servizio di food delivery dove a scegliere mammat quindi il servizio che a cui tu ti abboni e ogni giorno ti arriva un pasto tra virgolette a sorpresa ma cucinato in stile mammat mammat è una dicitura napoletana per dire tua mamma come per dire questo è un cibo come dovresti ricordarti buono fatto bene esatto casereccio mi abbono e mi arrivano tutti i giorni mi arriva un pasto come funziona non è che come delivery che scelgo il ristorante mi arriva ok ti arriva è una rete di cucine e ogni giorno all'orario che scegli tu avrai il pasto dove vuoi tu interessante e pian piano inizi anche a imparare tu descrivi cosa ti piace cosa non ti piace devi compilare i feedback mamma la parmigiana guarda che non mi è piaciuta la settimana scorsa fammi la lasagna così no ok quel rapporto lì c'è bello molto interessante molto interessante ok quindi abbiamo capito cos'è però c'è stato un momento in cui a jungle studio non esisteva niente neanche l'idea per cui siete entrati in ufficio e avete detto abbiamo tutto abbiamo il team abbiamo i soldi abbiamo le capacità che facciamo allora la scintilla io penso che sia nata sempre da problemi personali quindi ok ragazzi c'è lockdown non possiamo uscire tutti i giorni mangiamo le solite quattro cose su glovo c'è un problema ah in quel periodo lì è nata questa idea quindi qualcuno esatto ha detto beh certo come la fa mia mamma questa cosa e lì qualcuno ha fatto tipo fermo genio fermati esattamente e nel momento in cui c'è un'intuizione c'è il passo successivo ok c'è un'intuizione sarebbe bellissimo che ci fosse diciamo una mamma virtuale che ti cucina i pasti che ti aiuta a mangiare meglio da lì la scelta immagino che escano centinaia di idee tutti i giorni com'è il metodo per dire investiamo cioè approfondiamo questa ma allora inizialmente deve convincere comunque il team è impossibile lavorare su un qualcosa che non ti piace potrebbe essere anche una roba questa roba qua ragazzi implementare import export di bulloni dal turmekistan all'india è fighissimo miliardi però che palle certo quindi si vuota tra l'altro un'idea che ho avuto quindi se non c'è un qualche spirito all'interno del team che dice ragazzi questa roba qua perché sennò ti devi immaginare che ci lavori per i prossimi sei mesi anno esattamente devono venirti nuove idee devi pensarci la sera quindi vuoto sì abbiamo dei brainstorming interni dove calcoliamo un l'entusiasmo che crea un certo tipo di iniziativa iniziamo poi a validarla dire ok è anche figo cioè io lo vorrei ma sono l'unico siamo in 10 siamo in 20 milioni per farla che ci serve lo fanno già tutti è difficile entrare avere partner cioè iniziamo entrare nel merito del business ok e dopodiché senza tanti giri iniziamo a validarla cioè venderla prima di farla quindi iniziamo a fare landing page finti servizi con nomi diversi quindi non mettiamo non lavoriamo neanche sul brand cioè non c'era mamma in questi test no mi ricordo che tipo una delle idee che avevamo tirato su l'abbiamo chiamata tipo ciafrolla cioè un nome a caso non importa da lì in poi vediamo quanti vorrebbero veramente questo servizio qui avete fatto la landing page che offriva il servizio di questa app tipo un nome diverso da mamma cioè vuoi ricevere ogni settimana un pasto come quello di tua mamma bla 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 landing page con l'immagine dell'app no i mock up eccetera e lì cosa poteva fare l'utente scarica cioè poteva fare un'azione oppure allora l'utente poteva abbonarsi quindi inserire il cap anche se poi diciamo guarda non c'è ancora è vero che ci rimani male è vero che diciamo cavolo nella fregatura però intanto riusciamo a beccarti chi arriva a comprare veramente quel servizio lo si fa in piccolo in una sola città come tester per quello usiamo anche un nome diverso e cerchiamo di capire dove come perché l'utente vorrebbe perché noi dobbiamo conoscerlo conoscerlo a fondo capire dove va lavoro che famiglia c'è tutto di quel cliente per poter capire quale bisogno gli soddisfiamo veramente se il tempo se che mangia male se perché un giorno c'è a casa un altro giorno no cioè qual è veramente il problema che gli stiamo andando a risolvere però con questa landing page finta come fai a capire tutte queste cose cioè li capisci tante ne facciamo tante tanti esperimenti ogni esperimento dura due settimane quindi arriviamo ok calcoliamo se si abbonerebbero una roba dove non decidi tu cosa mangiare a bomba magari anche con target diversi quindi studente lavoratore quindi hanno anche stili diversi nomi diversi e facciamo analisi e tappeto sulle reazioni che ha il nostro potenziale target sul servizio e lì su mamma cos'è uscito fuori dai vari test ma allora un sacco di persone ha cercato di abbonare abbiamo speso anche pochissimo di sponsorizzate c'è qualche centinaio di euro poi abbiamo preso in un'altra landing page dove abbiamo detto sai che c'è iniziamo ad avere dieci persone che si abbonano veramente scegliamo un ristorante qua sotto l'ufficio e gli mandiamo il cibo sono entrati in un programma di testing e loro però dovevano compilarci una motto di roba però mangiando gratis per tipo due settimane un mese un mese e lì abbiamo avuto un sacco di formazioni ah sì è vero ti dovevi abbonare per entrare in un programma dove mangiavi un mese sponsorizzato da mamma però dovevi compilare della roba centinaia di iscritti ne abbiamo poi scelti dieci in base ai alle personas ai target che volevamo e abbiamo fatto una prima analisi diciamo più cicciosa sui bisogni e il target ma tipo l'avete chiamati l'avete incontrati anche sì ho fatto una call quindi siete arrivati lì che avevate l'idea va bene c'è l'entusiasmo per lavorarci tutto il team che ci hai descritto prima si mette al lavoro quindi designer fanno le landing page non tutto non tutto il team ok questo è importante perché anzi doveva essere veramente lean all'inizio quindi uno due persone sì 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 si si nomina un po tipo un product owner chi porterà avanti l'iniziativa che va è un po come i giochi di strategia quando è tutto nero tu c'è solo la tua cosa prendi l'esploratore che va avanti quando poi lo ammazzano dice ok lì ci sono dei nemici ah giusto perché chiaramente non lavorando su un solo progetto il tuo team diciamo scomponi in piccoli micro team che portano avanti dei diversi progetti più l'idea si valida e noi ci puntiamo e più il team diventa grosso quindi si dà più attenzione a quel tipo di opportunità e poi se è abbastanza grosso non possiamo dedicare tutta l'azienda a una sola startup il team stesso inizia a fare recruiting per assumere delle persone tipo mamma te adesso ho già assunto due persone dall'idea brainstorming al momento in cui inizi a parlare al telefono con dei segmenti no dei tuoi futuri clienti quanto tempo passa allora solitamente noi ci diamo come tempo sei mesi dobbiamo capire se uccidere o no questa startup è già successo cioè ne abbiamo già uccise tre o quattro se supera i sei mesi vuol dire che hai gli utenti interessati hai il servizio attivo che potresti far scalare hai un team che comunque copre tutte le varie aree e hai magari già qualche gruppo interessato a un'idea di questo tipo magari da acquisire in futuro e su mamma te dopo questa fase di analisi come è andata bene perché il mondo del food delivery è abbastanza difficile anzi è difficile allora o siamo gli unici che vanno contro tendenze quindi moriranno male esatto oppure potrebbe esserci veramente una opportunità concreta perché tutti vanno sul on demand non sulla pianificazione quindi cerco questo subito via tutti vanno verso la scelta ed avere tantissima scelta dove sono io che scelgo invece diciamo no scelgo io però devo dire che c'è molto interesse in questa fase inizia a sviluppare l'app inizia a contattare delle cucine sì abbiamo deciso di dove lanciarlo prima di tutto quindi ragazzi torino sperimentiamo qua perché è più facile dobbiamo avere la copertura torino quindi abbiamo battuto tappeto un tot di ristoranti per poter coprire la zona torinese e consegnare nel giro di pochi chilometri c'è la distanza fra la cucina e l'indirizzo deve essere al massimo 15 minuti non di più per poter arrivare un pasto caldo quindi abbiamo logisticamente coperto questa zona fatto una partnership con un'agenzia di rider che ci fornisse i rider e iniziato a implementare l'applicazione per poter pubblicizzarla e derogare veramente il servizio quindi da lì iniziato a fare sia l'app e sia questi accordi dietro per farla funzionare poi lasciami dire tutto abbastanza lean anche lì contratto standard per il ristoratore però non ci abbiamo messo tanto un paio di mesi vi siete dati sei mesi per la prima parte e adesso altri due per implementare il servizio e testarlo no no in tutto cioè immagina primo mese testing analisi di validation due mesi implementare il servizio gli altri tre per sistemi di pagamento adesso stiamo facendo integrazione con eden red per poter dare anche i ticket eccetera fine anno vorremmo coprire sia milano che torino ok però diciamo il vostro obiettivo poi perché voi sviluppate più startup è quello di vendere poi questo assolutamente e vi muovete già mentre fate queste implementazioni raccogliete dati eccetera cominciate già a muovervi con dei possibili acquirenti allora non ci siamo ancora mossi nel cervello io sogno e non dico che so già a chi venderla ma mi piacerebbe che lo comprassero alcuni gruppi che non dirò perché non lo sanno neanche loro ok però comunque inizio a preparare delle opportunità per poter essere un canale un nuovo segmento un nuovo business l'opportunità di aprire autenti finali che il gruppo non ha fare quell'anello che non hanno fatto le grandi aziende te lo do già io quindi inutile che ti metti a sviluppare il nuovo canale per arrivare in questo mercato dove gli altri magari sono già pronti e non ce la fai comprati tutta san baradan e la facciamo crescere oppure in un altro stato che non so dipende quindi sì iniziamo ad avere un'idea però concretamente questi passi li faremo quando abbiamo una massa critica di utenti degna di nota certo certo ciao interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere hacking creativity cliccando sul link buy me e coffee che trovi in descrizione puoi scegliere tra una donazione una tantum tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi ma lo so cosa stai pensando perché dovrei farlo uno perché questo podcast vuole crescere sempre di più ma vari costi quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto 2 se ti abboni hai qualcosa in cambio dal canale telegram riservato dove trovi nuovi link backstage e un contatto diretto con noi fino a partecipare a una registrazione dal vivo via zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando 3 se anche una volta soltanto ascoltando il nostro podcast è venuta in mente un'idea hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro beh è un buon motivo per far continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca il link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata io c'ho una domanda c'è una cosa che mi ha colpito quando ci hai citato whatsapp cioè che tra la landing page finta e iniziamo a offrire il servizio senza tutti fronzoli di un'app bella disegnata super wow sia per android per ios eccetera whatsapp i clienti c'erano cioè nel senso con ti propongo questa cosa e ti scrivi con whatsapp già lì funzionava ho gli accordi con i ristoranti già lì funzionava assolutamente sì sì satispay e whatsapp tanto tempo competenze team no però spesa fino a lì no quasi nulla nulla no spesa noi siamo sempre bassi di spese la spesa più grande è il team questo è figo tu il ristorante vai a parlarci un attimo il rider lo affitti hai whatsapp satispay e boh hai il servizio magari c'hai 10-20 utenti però comunque c'è 20 utenti arrivavano le informazioni l'indirizzo le preferenze e voi manualmente immagino contattavate il ristorante e c'era lo sbattimento manuale però andava la cosa però andava andava mi ricorda molto lo schema di un nostro diciamo aficionato lo citiamo sempre che noah kagan che lui aveva fatto questa cosa di immagino lo conosce alessandro no cioè che in 48 ore lui capiva no validando e facendo esattamente quello che ci sta raccontando alessandro capiva subito ma in 48 ore se un'idea aveva abbastanza traction se va abbastanza mercato no ed è una cosa che dice bellissimo su carta ma poi alla fine non lo fa nessuno mentre voi state proprio lavorando su questa cosa qui cioè in velocità in risparmio cercare di capire se è una cosa funziona se funziona avete già un gruppo alle spalle che vi può aiutare a trovare persone che possono in qualche modo entrare a un certo punto e comprarla ecco volevo chiederti questo nel caso di un exit voi vi tenete una parte delle quote fate un exit totale cioè avete un modello ibrido come funziona dipende dai soldi immagino dipende dai soldi però esatto esatto cioè insomma dall'esperienza che ho avuto ho capito che non può esserci un modello solo perché la negoziazione è come una partita a scacchi non sei mai cioè arrivi sono tutte diverse cioè poi anche perché i grandi gruppi sono densi di anche opportunità magari te ne vengono a parte però che ne so mi tiri su una unit in un altro paese che ne so potrebbero nascere mille idee oggi mamma fa pranzi però perché non potrebbe magari alla sera farti la spesa ed essere un ecosistema molto più grande magari coinvolgendo più aziende di settori diversi certo e qui torni anche al discorso che facciamo prima delle città chiaramente mamma si inserirebbe perfettamente all'interno di una cittadina nuova come servizio per chi vuole avere il pranzo pronto oppure come dici magari in futuro anche altro altre idee su che chiaramente ci puoi raccontare sulle quali state lavorando quali sono adesso sono oltre a mamma ce ne sono due promettenti stadi diversi una è un nome in codice non sarà ancora il nome fake si chiama mister wolf che risolve problemi questa è nata un po da me perché io sono veramente messo male con multe robe cose burocratiche c'è proprio un casino però la pubblica amministrazione se aspettiamo che si metta a posto delirio possibile però perché non immaginare un team super esperto di burocrazia che fa da layer dove offre un'interfaccia digitale alle persone e poi si smazza i problemi aggregandoli che ne so immagina che tutte le multe saranno pagate con un tasto sull'app ti arriva automaticamente la notifica se tu aggreghi la domanda c'è cazzo faccio un contratto con poste italiane ho centomila persone che sono abbonate mio servizio facciamo che me le mandi a me e mi occupo io dello smistamento questo è un po la visione il servizio è ho una bega burocratica tipo la multa altri esempi oltre la multa adesso stiamo andando a colpire il target expat quindi tutti quegli stranieri che arrivano e non parlano anche bene la lingua e sono in un vortice di burocrazia pazzesco perché magari hanno studiato qui ma il loro permesso era solo per studio hanno trovato lavoro e dite ci pensiamo noi sì esatto ti posso dare uno spunto da aggiungere vai io che ho figli bonus asilo tutto quel mondo lì cioè nel senso noi abbiamo scoperto da un'amica che aveva fatto una richiesta per una roba che ci spettava ma non la sapevamo e anche per farla cioè devi richiedere puoi richiedere un contributo per l'asilo non lo sapevo per farlo un lavoro calcolo dell'ise mille parametri complessissimi che probabilmente lo fanno anche come barriera per dire così ci chiede meno gente ci chiede i contributi no però ecco già una cosa del genere tu mi dici io vado sulla tua app e ti do un tot 20 euro 30 euro non lo so per questo sbattimento te lo appalterei subito figo io ne ho un'altra alessandro tra l'altro appunto questo è anche un po' un colloquio di lavoro per cui insomma volevo un po' espormi e sai cosa pagherei veramente tanto io se voglio dire mi trasferisco ok e di cosa ho bisogno ho bisogno guarda voglio la luce netflix il sky ti do i miei documenti ti pago un po' di più tutti gli abbonamenti ma fai tutto tu non voglio ricevere mail ricevere bollette ricevere cose quindi anche questo senti che frustrazione che c'è in giro però è vero stanno intercettando la frustrazione perché sono tutte cose che non sono difficili da fare ma time consume eccetera è possibile che ci sia un servizio che faccia tutto lui ti conosce già i documenti li metti una volta esatto basta guarda se volete dei tester io ci sono su questo a me se volessi investirci già come da dipendente a investitore invece l'altra idea che dicevi che ce n'era una terza la terza invece si chiama faberest sempre nome in codice faberest su quisco e fortune è nato un po' da questo concetto di che un un artefice del proprio destino ed è basata sul microcredito è stata un po' l'intuizione di giulietta la tua socia sì esatto socia e compagna e tra poco ah ma sei tu il padre sono io sono io ah ma anche tu allora sei ci ha detto prima di iniziare che è incinta al nono mese a cavolo anche tu sei un attimo potresti saltare potresti abbandonare questa chiamata da un momento all'altro ok esatto esatto l'idea è ma siamo in un mondo in cui c'è l'abbondanza cioè l'abbondanza finanziaria è enorme i grandi gruppi finanziari non sanno dove investire e poi ci sono invece delle persone che non sanno come prendere i soldi cioè questo è assurdo quindi riusciamo almeno in piccolo a far accedere al credito persone che non sono nemmeno bancabili cioè quelli che infatti abbiamo iniziato a colpire prestiti fra 50 e 300 euro persone che pochissimo iniziamo così e ce ne sono una marea che se vanno in banca hanno protesti hanno problemi hanno un sacco di ma chi è che chiede un prestito da 50 euro ci siamo domandati la stessa cosa e abbiamo detto ma c'è qualcuno che chiede un prestito da 50 euro anche lì sponsorizzata abbiamo messo anche addirittura dei cartelloni in alcune zone di torino un po' più periferiche è stata la campagna con più ritorni in assoluto cioè ma 100 euro centinaia di richieste quindi vorremmo andare a cercare di capire se possiamo prestare soldi per aiutare queste persone senza le verifiche le trafile bancarie io non ho capito chi è che chiede 50 euro guarda noi abbiamo fatto interviste che ne so c'è la scuola e non ho i soldi per pagare il materiale scolastico ai bambini ho problematiche con l'assicurazione non riesco a pagare questo mese ho le spese non riescono arrivare a fine mese questo è il tema sforano il mese per cui sono un po con la coperta corta tu gli dai una mano guarda questa qui è una cosa secondo me bellissima nel senso che io ci vedo un rischio cioè complessa complessissima però è appunto il discorso del microcredito è bello perché se poi magari in italia è un po diverso è un discorso di arrivare a fine mese nei paesi emergenti ci sono persone che hanno cambiato la loro vita con prestiti che per noi sono veramente una serata fuori in due a mangiare la pizza per cui questa intuizione qui ultima è proprio secondo me molto 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 bella io volevo chiedere una cosa allora quello che ci ha raccontato è diciamo un modello e questa cosa interessante quando tu ci parlavi all'inizio di prodotto è sì il prodotto l'app di mammate o altre che state sviluppando ma è un prodotto è anche un sistema questa vostra stabilità di mettere in cantiere tante idee validarle e poi portarle avanti certo un metodo che più o meno funziona sempre lo stesso modo si è migliora anche perché le start up che sono mister wolf aver est visto che sono le stesse persone comunque che seguono l'avvio delle imprese sono sempre più esperte nel non fare gli stessi errori che abbiamo fatto prima magari in sei mesi siamo arrivati ad un certo punto con mister wolf ci metteremo magari due perché abbiamo già una macchina da guerra per poter fare cose che prima dovevamo iniziare a fare da zero e l'idea è quella di avere un sistema che implementa nuovi servizi e nuovi prodotti nuove start up sempre più performante e parallelizzante quindi sempre più linee parallele che possono cercare di arrivare alla vera opportunità voi siete praticamente uno start up studio cioè start up che creano altre start up ci sono altre realtà in italia in europa cioè che tipo di cosa succede allora ce n'è sempre di più la bella prima è nata nel 96 famosissima anche se mi ricordo adesso mi sfugge il nome adesso talmente famosa è un competitor per cui ti ma non in italia cioè il precursore da lì in poi è esploso un po negli ultimi anni il concetto di startup studio startup builder venture builder bello che gli startup studio non sono competitor fra loro perché comunque possono condividere modelli ma poi i business che fanno sono diversi e invece la vostra vision come startup studio nel senso che da qui a dieci anni dove vi vedete cioè al di là appunto ci sono altre cose oltre a quello di creare startup e continuare a crearle ma io sono molto affascinato dal come riuscire ad avere gli imprenditori del futuro per noi è una sorta di allenamento per poter essere pronti ad essere la nuova leva di imprenditori che ci sarà fra 20 anni e potrà essere pronta a sfide grosse ti do degli scenari no chi ci sta ascoltando i compresi magari abbiamo l'idea nel cassetto non ho il team che hai tu no qualificato tutte le pedine giuste per portarla avanti che consiglio mi dai io penso che per validare un'idea non serva un team enorme si può benissimo fare anche da soli è proprio quello il bello cioè abbiamo visto che con whatsapp satis pay il ristorante sotto casa puoi erogare un servizio poi mettere un business poi la landing page ormai che significa cioè la fai in cameretta in dieci minuti quindi secondo me poi anche lì un team che ti supporti magari per fare delle piccole cose ci sono servizi come fever cioè se serve piccole cose un intervento mirato di un professionista non devi spendere cifre assurde ma come l'amico nostro kagan dice c'è un altro ulteriore step di validazione che lui fa in un weekend diceva provo a vendere il servizio a dei conoscenti amici al telefono questi gli dicono no guarda non me ne frega niente dice ok ho buttato via due chiamate se gli dicono no pazzesco come hai fatto tu adesso no sulle multe si abbiamo detto no no guarda prendi i nostri soldi già quello lì forse il primo step che devi superare venderlo ai tuoi amici primo step amici parenti secondo step sconosciuti terzo step inizio fare un prototipo fatto in casa va bene andiamo verso la chiusura in montaggio metteremo una musichetta da colloquio di lavoro ci dici se io adesso no fossi seduto davanti a te e sono lì ad un colloquio quali sono le paio di domande che fai al tuo team quale difficili quelle proprio c'è ce le hai le tue domande killer per capire se la persona è giusta ma prima di tutto abbiamo di solito tre colloqui il primo dove cerco di venderti jungle studio il secondo sei tu che vendi non è l'altro che si vende primo colloquio faccio vedere che figo il secondo colloquio tecnico quindi devo capire quali skill ci sono come ti comporteresti in un'altra situazione riguardante il tuo lavoro il terzo colloquio ti disincentivo a entrare in jungle studio quindi proprio non ti voglio ma perché te l'ho sentita questa tecnica siamo fuori di testa noi cioè poi ti faccio anche partecipare al d day che è un evento che facciamo ogni settimana dove non capiresti nulla cioè proprio una roba abbastanza da pazzi e quindi uno dice ma questo non sono normali ma poi è possibile che io devo capire se tu sei legato alla sicurezza perché non c'è sicurezza c'è tanto disorientamento quindi senso disorientamento e non so com'è devi essere abituato non siamo a posto di testa perché siamo abbastanza borderline perché dovresti venire lavorare qua cioè qual è quello cosa ti incentiva a metterti così federico sai che fa il riposino dopo pranzo sì ma io voglio dire io mi immagino che il vostro non so se va bene questa cosa il vostro studio sia tipo google capito amache dappertutto distributore di snack gratuiti cioè ping pong è così o è diverso eh sì sì ma su quello super flessibilità eh cioè anche sul riposino perfetto ma sì ma anzi alcuni ci chiedono ah non ho niente alcuni ragazzi hanno niente da fare cosa faccio fare a questa persona adesso abbiamo finito un progetto detto anche insomma vai a fare shopping leggi un libro ok senti un'ultimissima cosa che succede in questo d day dove si va fuori di testa che fate una volta a settimana allora il d day è nato per poter essere il delivery day l'avanzamento progetti però è diventato sempre di più un evento culturale di jungle dove si parla di ispirazione i valori di jungle nel futuro i fallimenti quindi il pitch su come esploso un'idea un progetto dovevo fare arrivare ad certi obiettivi invece è andato tutto male come non doveva andare quindi incentivare quella cultura della sperimentazione della vision dell'innovazione si fa così no come si può fare diversamente riservare un giorno a settimana dove non sei operativo non stai lì a programmare a fare la landing page ma ti guardi in faccia parli sembrano una perdita di tempo in realtà ti dà una boccata di ossigeno anche no poi è molto sentito cioè se non ci sono quegli eventi dove planning ed idee che sono operatività e cultura perdi poi dei pezzi senti l'ultima cosa è tutto bellissimo quello che ci hai raccontato però il finanziamento i due milioni di euro ci dicevi di finanziamento che avete ottenuto viene eroso pian piano per cui bisogna anche portare in profitto queste start up ce l'hai un occhio lì assolutamente c'è il cronometro come siamo messi primo anno sicuramente perdita secondo anno inizieremo ad avere secondo me l'opportunità nel secondo semestre di iniziare a parlare con possibili acquirenti puntiamo ad avere tipo 10.000 utenti per iniziare a dire boh sta funzionando poi dipende dalla start up però se ho 10.000 clienti della mia idea della mia start up in generale posso iniziare a essere interessante per qualche investitore secondo me si tra uber ecco non è tanto magari il numero adesso ho 10.000 però in quanto tempo c'è proprio il fattore esponenziale quindi quanti ne raddoppio ogni mese se c'è questo vuol dire che c'è traction basta mettere più benzina in teoria e andare più veloci poi bisogna vedere dove si spacca la macchina io comunque la chiamerei welcome to the jungle questa puntata Edo ma va bene mi piace ho anche la maglietta peccato l'avrei messa Alessandro ci ha raccontato una cosa veramente molto molto interessante ti mando il curriculum e grazie mille di essere stato con noi grazie a voi ragazzi no no aspetta e facci sapere Giulietta come va assolutamente la prima exit è a novembre il primo delivery si chiama delivery in inglese la puntata è finita e adesso cosa puoi fare? beh due cose uno iscriverti ai nostri appunti trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato belli ordinati così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli e due puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me & Coffee se vuoi sostenere il nostro podcast trovi tante modalità dall'abbonamento alla donazione one shot agli extra quindi clicca il link valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto